Sono competente della protezione civile e non sono competente dell'ARPAL. Sì, pronto, un attimo, sto intervistando. Se avremo solo 18 sicurati guardandoli, avremo la realizzazione dei sottoservizi. Facciamo tutto, cominciamo con il rischio. Sporriamo 9 mesi di tempo e il rischio di anche dei ricorsi. Volevo dire che l'evento di oggi era per un po' di noi. Sì. Chiedevo solo di separare i tempi. No, ma lui lo intervistiamo anche, non è che non lo intervistiamo. E vabbè. Ma credo che... Sì, vabbè, ma adesso, tanto che siamo qua. Allora, certo, la prima cosa però che le volevo chiedere è che forse se l'avrà saputa.